Oggi è la giornata mondiale dei ritardatari. In realtà era ieri, ma noi la festeggiamo oggi per ovvie ragioni, anche se al momento non si è ancora presentato nessuno. Molti dei miei amici puntualmente arrivano in ritardo. La loro fortuna è che hanno inventato le auto, altrimenti non avrebbero la ragione principale per giustificare il loro sistematico ritardo, grazie al traffico. Vabbè, potrebbero prendere i mezzi, ma di sicuro cercherebbero comunque di arrivare tardi con ogni mezzo. L'ultimo mi ha detto che sta facendo tardi proprio perché il tram non passa mai. Ora, effettivamente da lì il tram proprio non passa, però potrebbe almeno prendere la metro. Almeno quella la stanno costruendo e quindi così una speranza di arrivare nel futuro ci sarebbe. Ma i peggiori ritardatari cronici chi sono? Le donne, certo. Anche loro puntualmente tutti i mesi ti ripetono ho un ritardo, ho un ritardo, cioè loro hanno un ritardo personalizzato tutto loro. Quello in effetti poi è un ciclo vizioso, cioè il ciclo è il loro e il vizioso è il loro compagno che in quel caso si vede è arrivato prima.